Voglio scoprire dai fratelli di DeSouz cos'è realmente successo tra Simba e Rondo, devo saperlo. Negli ultimi giorni si sta parlando molto di alcuni possibili attacchi tra Rondo e Simba, visto che ormai è da tempo che il Simba si allontano e non ci sia più il rapporto stretto. Presi. Presi fratello. Minchia è vero, hanno fatto Cinga devastante quel brano. Sono sempre stati moltissimi fin dal giorno zero. Forse tra i due i rapporti non erano più distesi e la... Minchia bro, il mic. Coppa mic. Manca un blu Yeti dal cazzo usato lo paghi 80-90 euro. Pessere è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Gloria NPT ti fa come l'SD. Voi la gangsta shift, comprati il nuovo CD. A seguito di questo brano, molti fan hanno notato che i due non si seguivano più su Instagram e sappiamo che... Cosa? Anche queste cose possono avere il loro peso. Vabbè, fra... Seguono più su Instagram, gravissimo. Oltre al mancato follow su Instagram, Rondo ha poi pubblicato una... Gli sniper si muovono così, brother. Gli sniper, i cecchini, si muovono così. Ha un follow su Instagram, zitti, nel silenzio, senza che nessuno noti niente. Storia nella quale ha scritto. Sciogliete un lato e rimaneteci. Non conosciamo la parola switch. A inizio gennaio è uscito il primo e attesissimo album di Simba, Tunnel, con all'interno tanti fit eccellenti come Sfera, Guè e Tedua. Proprio nella traccia con quest'ultimo, molti ascoltatori hanno notato una possibile frecciatina a rondo. Infatti nella sua strofa Simba... Cosa? Aia. Woodridge, aah. Attenzione, brother, attenzione. Dopo l'uscita dell'album, Gaia Bianchi, ex storica di Rondo... Io non so veramente... Qua potrebbe veramente succedere qualcosa di grave. La tensione è altissima, ragazzi. La tensione è altissima. Rincarando la dose e lanciando l'ennesima frecciatina. Aia. Ma hai messo Woodridge, penso. Non ci sta. Non ci sta. Cosa? Questa pressure... Cioè, la capisco, perché gestire sta pressure, bro, è peso. Io, sincero, nella situazione come... Dove sono loro, non sapevo. Cioè, non saprei come... Se riuscirei a reggere tutto questo. Probabilmente avrei preso una Calibroni, sarei sparato in tesa. Proiettile che mi scavaca il cervello, perché... Sincero, sta roba... È troppo. Bro. Cioè... Adesso si parla, guerra, Israele, Palestina, Russia, Ucraina... Va bene. Però! Cioè, secondo me non so neanche da mettere a confronto. Sì, ok, cioè... Cioè, la pressure, Israele, tutte quelle robe là. Però, bro, cioè... Stare in questa warzone è tutta un'altra roba. Passato del tempo e si dovrebbe andare avanti senza guardare sempre indietro. Attacca Rondo dicendo che probabilmente lui è ancorato al passato, perché non ha trovato una ragazza che potesse fargli dimenticare la sua relazione con lui. Due anni, quasi, che ci siamo lasciati, ancora devo essere insultata. E sono una troia, e sono una gruppi del cazzo, e faccio la puttana. Cioè, in un mondo fuori, questo è grave. Non ci sono solo ste robe da mettere sui social, per scaldi... No, eh, insulti così sono... Stare la tua ex e basta. Cioè, per me, le parole P e T, che non mi piacciono nemmeno... Eh... La musica da sotto, sì. No, però, seriamente, le parole P e T per me sono... Cioè, sono al pari della N-word riferita a una donna, perché hanno... Soprattutto dette con cattiveria... Eh, bro, sono grevi. Per me sono molto grevi. Ok, solo perché tiro del culo e non vai avanti nella tua vita di merda, perché non trovi una tipa con i coglioni che ti dice le cose e che è una tipa con la testa... Che ha la testa, capito? E tu non trovi nessuno perché ti sei sempre accontentato delle puttane, ok? Grave, però gliele sta dicendo, gliele sta... Onesta Gaia, onesta, devo dire. I'm on the Gaia side on this one. E ancora, dopo due anni che ci siamo lasciati... Con la musica sotto, sì, bro, il piano... Sei ancora lì a insultarmi? Bro, c'è il bro cucinando, che ha sentito questo rant, il bro cucinando sotto col pianoforte... Componendo, frate, l'opera massima... Sfogo lecita. Porca puttana, ragazzi! Oh, due anni! Due anni, ma vai avanti nella tua vita! Bro, il bro, il bro cooking è sotto col piano... A meno per il momento, Rondo ha portato sul suo profilo una foto in cui si legge Rondo verso se privati. Proprio a sottolineare come ormai possa contare solo sulle proprie forze. Credete che sia solo l'inizio e che assisteremo a un vero e proprio dissing? Fateci sapere la vostra opinione... Who knows? Fantastici, però. Devo dire, i fratelli di TheSouse regalano pure. Cioè, sono content che proprio per me sono... Però sono perfetti. Secondo me è un'ottima collaborazione TheSouse Nikito. È un'ottima collaborazione TheSouse Nikito.